Violenza contro le donne e revenge porn, tre casi nelle ultime ore a Isernia, dove il questore Davide della Cioppa ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un giovane che ha aggredito l'ex compagna nei pressi di un noto bar del centro storico. Dopo aver strattonato, minacciato e insultato la ragazza, il giovane ha minacciato di pubblicare sui social dei video dal contenuto intimo, qualora l'ex compagna non avesse consentito a riallacciare i rapporti con lui. Un altro provvedimento è stato emesso invece nei confronti di un uomo che qualche giorno fa ha aggredito la sorella convivente in presenza dell'anziana madre che, nel tentativo di fermarlo, ha avuto la peggio. Infine, sempre il questore, ha ammonito anche il marito violento che in pieno giorno, nei pressi di un negozio molto frequentato, si è lanciato contro la moglie, aggredendola con colpi al volto e minacciando pure la figlia intervenuta in difesa della madre.